Pimpi, Cavallini, Pampos, Induina, Ton Pelaroni, Pelafic, Capitano del Furbit, Capitano del Soldato, Induina chi li sta? Allora, mi sono Francesca e sono a Milano. All'interno della nostra banca del tempo c'è diversa gente che o è milanesa o la parla o perlomeno la capisce il milanese. La nostra esigenza era quella di avere questa cultura e ricordare le situazioni di un tempo. Ma soprattutto in Pinela, come mi giù in, che Gavroia deve raccontare quel che faceva quando era in Fieu. Quando, ad esempio, Deca mia, che abitava in Lurenteccio, veniva dentro le strasce, con un caretino e gridava strasciaio, strasce, piva piva, noli d'oliva, gnaca gnaca, noli chetaca, nel bambini, che porti bene, nella mamma, che spendi da me.